Se io le dico coronavirus, lei cosa mi risponde? Forse un po' troppo di allarmismo o forse anche un po' di precauzioni e si potrebbe superare questo impasso che si è creata. Avete paura? Io no, sicuramente no, non ho paura però chiaramente bisogna essere accorti in quello che si fa, non fare stupidaggini. Io prendo delle precauzioni però chiaramente un po' ci ha condizionato, ad esempio ho avuto una faringite e per quattro giorni non sono uscita di casa perché avevo paura che gli altri avessero paura di me. E questo fatto che ci consideriamo uno con l'altro degli untori non è piacevole. Passeggiata con un clima di sole ma coronavirus, cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che per me è un'assurdità, è un'assurdità tutto questo pathos perché c'è dell'altro, io ne parlavo prima con lei, l'Africa. In Africa si muore di morbillo, ci sono 700.000 casi di morte di malaria nel 2017. Noi siamo fortunati, ho letto l'articolo sul secolo l'altro giorno, noi siamo fortunati che ci preoccupiamo del coronavirus. In Cina la situazione è sfuggita un po' di mano, speriamo che, si spera che non succeda anche qui in Italia, ci sono diversi casi. Poi ho visto che anche nelle Marche hanno deciso di chiudere le scuole tutte, infatti io faccio l'università lì, speriamo che la situazione non sfugga di mano. Quindi la sua vita non è cambiata in nessun modo? Non è cambiata ovviamente nel senso che si ha un po' più paura, si cerca comunque di stare più attenti, però secondo me bisogna cercare di vivere tranquillamente, cercare comunque di evitare sempre di più i contagi, che si diffonda la malattia. Lei va nei ristoranti, frequenta persone, cioè proprio non ha cambiato nulla delle sue abitudini? No, assolutamente, vado a fare la spesa, qualche volta andiamo a mangiarci una pizza e l'isolamento non lo vedo ancora. Che considerazioni fa rispetto a quello che vede in televisione, a quello che viene, a questa altalena, perché poi di questo si tratta? Andiamo ad altalena, sì, prima ci hanno spaventato a morte, o almeno hanno voluto spaventare a morte tanta gente, poi hanno fatto retromarcia, ogni giorno vanno un po' avanti e poi indietro, questo è quello che la gente non capisce e quindi c'è del panico in giro, però io non sarei più preoccupato di tanto. Lei guarda con diffidenza alcuni negozi che non sono italiani piuttosto? No, quello no, assolutamente, anzi noi andiamo spesso in un bar gestito da cinesi e abbiamo continuato ad andarci, perché questo abbiamo capito che è del tutto indifferente dal contagio. Anche rispetto al fatto che abbiano chiuso le scuole, che tante regioni si sono comportate diversamente, mi fa piacere che ci sia un comportamento univoco, che quindi il governo, se è vero quello che abbiamo appena letto, hanno chiuso in tutta Italia, credo che abbiano tutto sommato fatto bene, perché non era pensabile che mezza Italia andasse a scuola e mezza Italia invece no. Poi alla fine dell'anno risultavano veramente dei problemi, delle difficoltà. Come vive questo periodo? Ha cambiato la sua vita, le sue abitudini e soprattutto quelle della bimba, evidentemente? Sì, perché possiamo ringraziare i nonni, sperando soprattutto di non, cioè che se siamo contagiosi, di non attaccarglielo a noi, a loro. No, devo ringraziare tanto i miei genitori che possono aiutarci e poi speriamo che riusciranno a recuperare per i giorni di scuola. Lei ha paura di questo, del virus? No, forse perché non mi ritengo nelle fasce a rischio, sono più preoccupata dei giorni di scuola che perdono, però se lo ritengono necessario ci adattiamo. Tutta questa informazione che è molto altalenante da un giorno all'altro, che sensazione le dà? Che per fortuna lavorando non riesco a sentirne troppa. Lei ha due bimbi, uno piccolissimissimo e l'altro un pochino più grande. Sì, che è bloccata per l'asilo e quindi adesso per dietro a questo coronavirus non ce ne sepo più, cioè veramente. Ecco, è uscita pochi minuti fa una notizia per cui le scuole è chiuse fino a metà marzo ancora. Quindi come vive questa cosa? Adesso sembra un po' ridicola la cosa, però se per necessità bisogna tenerli a casa, li teneremo a casa. Però non so proprio come fare... Per il lavoro per esempio? No, il lavoro sono fermo, quindi non lavoro neanche, però più che altro per i bambini che non sanno cosa fare a casa e tutto, si annoiano anche. La vita per lei è cambiata in qualche modo, cioè nel come per esempio i suoi figli frequentano altri bimbi? Ma per quello cioè se... la più grande normalmente frequentavi, cioè deve essere per i grandi e deve essere tutto, però... Secondo lei c'è differenza fra che sua figlia giochi con qualche bimbo che incontra qui in passeggiata piuttosto che andare all'asilo? Sono contenta, guarda, se incontro qualche amichetta benvenga. Quindi non ha paura? No, assolutamente. Esco di casa, cioè adesso per il coronavirus, anche per la festa della donna, non si può fare niente. Un ristorante sul mare, chiediamo al titolare se questi giorni, queste alternanze di informazioni sul coronavirus le hanno cambiato un po' l'assetto dell'attività. Ma non più di tanto, ma noi parlo del nostro caso, quello che conosco meglio chiaramente, noi lavorando anche come albergo abbiamo dei clienti che sono fissi, fanno periodi lunghi, come ditte esterne che lavorano, primavera della scuola di Lentella, quindi stanno qua per mesi e mesi, quindi abbiamo comunque il nostro lavoro e più o meno sempre quello, non è cambiato. Il passaggio, questa stagione qua non ce n'è molto, quindi per adesso ancora non ce n'era neanche prima. Infatti non se ne risente più di tanto, però è ovvio che se continua e perdura la situazione, per Pasqua abbiamo dei problemi, quello sì. Qualche disdette ancora no, però arrivano poche prenotazioni. Quelli che erano prenotati per ora sono ancora prenotati, per adesso sì. e c'è qualche calo dal punto di vista dell'interesse delle chiamate, quello sì sicuramente. Quindi qualcosa l'avete avvertito. Personalmente lei ha dei timori, cioè nel muoversi con la gente e... No, devo dire la verità, io non ho capito nessuna abitudine, assolutamente, per adesso sono cosciente chiaramente del fatto che esiste questo tipo di problema, però non avverto l'emergenza di fare delle cose particolari diverse da quello che faccio sempre, assolutamente. Tra poco sarà l'8 marzo, ha delle prenotazioni? Al momento ancora no, al momento ancora no. Quest'ora è un segnale in qualche modo per lei? Ma guardi, più che altro dipende come sempre dal tempo, perché se le previsioni sono belle la gente prenota, se è brutto non prenotano, quindi non c'è una gran differenza, sono sincero, per adesso, se perdura chiaramente già per Pasqua sarà un problema, è ovvio.